Buongiorno, mi chiamo Joe Gardner e oggi vi parlerò di Merger Arbitrage, che è una strategia di investimento che si concentra sulle azioni delle società coinvolte in fusioni o acquisizioni. Dopo l'annuncio di un'operazione, il titolo delle società target solitamente scambia in borsa ad un valore a sconto rispetto al prezzo di fusione patuito. Ciò riflette i rischi associati all'operazione e il tempo mancante alla sua chiusura. I gestori arbitragisti cercano di catturare questo differenziale o spread tra il prezzo di mercato delle azioni e il valore finale realizzato con la conclusione dell'operazione. L'esecuzione della strategia può variare a seconda delle caratteristiche dell'operazione. In una fusione in cui l'azienda chirente intende decompensare l'azienda target tramite un scambio di azioni e il gestore generalmente acquisterà le azioni della società target e allo stesso tempo venderà allo scoperto le azioni della società chirente, aggiustate per il rapporto di cambio della fusione. Diversamente in una fusione in cui l'azienda chirente intende acquistare l'azienda target in contanti, il gestore acquisterà solamente le azioni della società target. Perché le azioni della società target sono tipicamente scambiate a sconto rispetto al prezzo d'acquisto patuito per l'operazione? Lo spread è composto dal risk free rate, come ad esempio il tibela 90 giorni, più un priemo per il rischio che può variare notevolmente da un'operazione all'altra. Questo priemo per il rischio è una compensazione per tutto ciò che potrebbe impedire la chiusura di un'operazione o l'allungamento dei tempi. I rischi variano per ogni operazione e comprendono rischi specifici dell'azienda, questioni normative sia da parte dell'autorità antitrust che di organizzazioni specifiche del settore, nonché rischi di finanziamento, problemi illegali, approvazione degli azionisti e infine tempi di chiusura dell'operazione. Poiché i rendimenti generati dalla strategia sono definiti dall'esito di specifici eventi societari, lo spread generalmente si basa su dinamiche specifiche delle fusioni e non sul sentimento generale del mercato. In altre parole, le operazioni si chiudono anche nei mercati in ribasso. Di conseguenza i rendimenti di una strategia di risk arbitrage non sono correlati all'andamento del mercato azionario generale. In Gabelli gestiamo portafogli di merger overcharge dal 1985 come estensione del nostro processo di ricerca fondamentale. Gabelli offre un vantaggio competitivo grazie ai suoi esperti di fusioni, sfruttando le risorse di un team di analisti globali, ovvero 40 analisti fondamentali che applicano la metodologia Gabelli Private Market value with a catalyst. La profonda conoscenza del settore e l'esperienza di Gabelli nell'investire in acquisizioni e fusioni consentono al nostro team di sfruttare situazioni complesse che richiedono specializzazioni e competenza. Il nostro team è in grado di valutare le opportunità e di sviluppare una comprensione dei rischi e dei benefici inerenti a ciascuna transazione e in ultima analisi di investire in operazioni che a nostro avviso abbiano un'alta probabilità di concludersi. Grazie a questo processo rigoroso siamo stati in grado di generare rendimenti costanti e corretti per il rischio con l'obiettivo di far crescere e preservare il capitale. Vi invitiamo a mettervi in contatto con noi per maggiore informazione su come un investimento nella strategia media media arbitrage possa essere vantaggioso per il vostro portafoglio. Grazie.